E siamo arrivati a quello che abbiamo dichiarato da tanti giorni, a questo momento speciale. Questo panchetto che si trova al centro dello studio servirà ora per questa gara di striptease tra Yvonne e Antonella. Vi ho già detto che Yvonne è molto preoccupata. Yvonne addirittura si è un po' ubriacata per riuscirci e direi allora togliamo subito dagli invece Yvonne. Yvonne te la senti? Cominci così te la togli questa cosa. Allora comincia Yvonne! 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 Grazie.